Upgrade importantissimo, una serie di aggiornamenti per quanto riguarda alcuni grafici delle criptovalute, alcuni grafici aggiornati anche per quanto riguarda Bitcoin, la questione ETF, ETFC, ETFNO, Ethereum cosa sta facendo, cambia Ethereum Bitcoin, Solana che cosa sta facendo, andiamo a vedere un po' di fare il quadro della situazione dopo queste settimane difficili, assolutamente complesse, di cui vi ho già parlato nel video di lunedì, che probabilmente non sono neanche ancora finite, ragazzi ma prima di andare avanti, siccome sto facendo un esperimento con l'algoritmo di YouTube, io vi devo chiedere di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto ragazzi, per favore, lasciatemi mi piace, sto facendo un esperimento, voglio fare dei test, quindi lasciatemi mi piace su questo video, raggiungiamo i mille mi piace, raggiungiamo i mille mi piace, non faccio niente, però insomma, faccio il test e riesco a superare il test, a vedere questo test com'è, va bene, allora, detto questo io inizierei dal grafico degli ETF per farvi vedere i dati, una volta che sono passati, un po' di giorni sono passati, adesso sono due settimane quasi, quindi i dati sono, iniziano ad essere accettabili, non significativi, però sono indicativi anche di una questione, ragazzi, cioè, intanto, anche oggi c'è un inflow negativo, quindi una diminuzione, che è legata anche, ovviamente, alla valorizzazione di Bitcoin, perché essendo che Bitcoin sta scendendo, chiaramente, dall'inizio dell'ETF, dalla data di approvazione dell'ETF, la discesa di Bitcoin penalizza anche gli asset under management degli ETF, che ovviamente hanno un valore in dollari inferiore, anche per quello, comunque questi sono gli inflow e gli outflow, quindi quelli che entrano e quelli che escono, quindi sono teoricamente depurati da questa questione, Allora, quello che volevo farvi vedere, non era tanto la questione del giorno, ma questo grafico qui, ragazzi, questa tabella qui, che è molto importante, perché? Perché ci dice che sì, c'è la questione, che c'è lo scambio da Grayscale che sta continuando a diminuire, vedete, io vi ho dato una stima intorno a 10 billion, più o meno si fermerà, più o meno questa fase imponente, quindi mancano ancora 10 billion, ragazzi, ne sono stati trasferiti 8, ne manca, diciamo siamo a metà strada, ecco, diciamo ancora di più, dovrebbero essere trasferiti, allora questa parte qui è vero, poi sono andati a confluire un po' qui, un po' qui, però in realtà, ragazzi, questo dato è il primo dato che, insomma, si può analizzare, ed è significativo, ed è questa colonna qui, questa colonna, allora, aprite gli occhi, mettetevi gli occhiali, eccetera, quelli da vicino, da lontano, quelli che preferite, allora, 11 di gennaio, data di prima quotazione dell'ETF, under total asset, net asset, erano 29 billion, eccetera, da lì in poi è stato una continua discesa, come vedete, al momento sono 25 billion, quindi, se è anche vero che la distribuzione c'è stata tra Grayscale e gli ETF di BlackRock, quelli di, insomma, Bitwise, Arc e Fidelity, è anche vero che, da un punto di vista di total asset under management di tutti gli ETF, c'è stata una riduzione consistente di circa 4 billion, 4 miliardi in meno, relativamente, appunto, al dato di oggi. Significativa questa cosa, perché vi dà anche un quadro generale del fatto che il ribazzo di questi giorni, seppur da un punto di vista ciclico e tecnico un po' atteso da alcune questioni, è anche, comunque, guidato da vendite di natura costanti da parte dell'ETF di Grayscale, e ci dice anche che, probabilmente, fin tanto che queste vendite non verranno messe a conclusione, quindi questo turnover sarà concluso, perché una parte è stata virata, no, ragazzi? Allora, come vi dicevo, 8 billion da qui sono usciti e sono virati negli altri ETF, però di questi 8 ne abbiamo persi, qualcuno li abbiamo persi, quindi probabilmente 4 sono andati persi, cioè sono tassazioni, come vi dicevo, perché alcuni sono stati tassati, altri non sono rientrati, sono in fase di attesa, probabilmente sono usciti, c'è la questione FTX, che ovviamente sono stati solo venduti, non sono rientrati, e basta, ragazzi, quindi tutti quei billion lì sono circa 4 billion, perciò questo dato è teoricamente negativo, però è anche significativo dell'attuale momento, cioè è short term questo dato, però dobbiamo tenerlo in considerazione, perché non è finito, quindi è probabile assistere ancora a una riduzione del total net asset, e comunque questo dato, questa colonna inizia a essere significativa, e dobbiamo tenerla sotto stretta osservazione, insieme alla questione della fine di questi prelievi da Grayscale, che ancora secondo me non sono per niente finiti, vedete c'è troppo discrepanza tra le asset management di Grayscale e quella degli altri, quindi continueranno queste fasi di vendita, detto questo andiamo a guardare il primo grafico di oggi, tra le altre cose vi faccio vedere la total market cap delle criptovalute escluso bitcoin e ethereum, e le stable coin, l'abbiamo seguito questo grafico, quando io in questo spuntone qui a dicembre vi avevo accennato, a di rinverno a novembre vi ho accennato la possibilità di assistere a una mini alt season, che non sarebbe durata, andatevi a rivedere tutti i video della zona di novembre dove parlo delle cripto ragazzi, e in quel contesto potete vedere della questione legata alla mini alt season, c'è proprio un video che parlavo di questa cosa, e questo dato però ragazzi è stato significativo, nel senso che qui è andato a invertirsi il trend sulla total market cap della cripto escluso bitcoin, poi però io vi avevo anche inserito un fvg, cioè un fair value gap, che era un livello di target che potevamo assistere, insomma relativo alle criptovalute, e che abbiamo perfettamente raggiunto, spiego questa strategia nel video sulle strategie fair value gap ragazzi, se non l'avete visto ve lo lascio sulla mia testa, e quindi potete dargli un'occhiata, ovviamente il video youtube andatelo a vedere, e anche in questo contesto in pratica è stato raggiunto alla perfezione questo fair value gap, dal massimo di questo grafico, e poi in pratica il grafico si è sostanzialmente fermato, ora dove siamo in termini, metto un grafico settimanale così si vede meglio, siamo andati a fare il pullback del livello di resistenza precedente, quello che in pratica aveva bloccato tutto quello che è la fase di rialzo, scusate toglievo i volumi così si vede meglio, tutto quello che era la fase di rialzo, questa zona era stata bloccata, dopodiché breakout è stato colmato il fair value gap, che era fatto da questa candela in pratica qui, dopodiché è andato a fare il pullback del livello di resistenza precedente, ora è diventato un livello di supporto, che attenzione non è del tutto preciso, perché non era questo il solo livello, quindi i 300 billion, ma era anche una fascia che andava dai 280 billion a 300 billion, quindi tutta questa fascia era un livello di supporto, è stato raggiunto con una prima fase. Ora, la questione ciclica ragazzi, c'è anche un dato ciclico, perché vi parlo di questo grafico? Perché questo è un grafico molto importante per l'intero andamento del settore delle criptovalute, quindi escluso appunto Bitcoin, Ethereum e le stablecoin, però è indicativo anche del fatto se le cripto possono assumere o meno forza, soprattutto nei confronti di Bitcoin e del dollaro. Allora, detto questo, in pratica c'è anche una questione ciclica, dove probabilmente qui abbiamo un ciclo che si sta chiudendo, che è di natura annuale, 392 giorni sono sufficienti, quindi entriamo nella fase, in pratica dalla prossima settimana, io direi entriamo nella fase in cui ogni minimo può causare la chiusura di questo ciclo annuale, ma purtroppo, ahimè ragazzi, insomma ve lo devo dire, queste fasi di chiusura del ciclo annuale hanno un buffer di finestra di tre mesi, quindi noi siamo all'interno di una finestra temporale abbastanza lunga, perciò non è possibile utilizzare queste informazioni a livello operativo, ma è possibile utilizzare a livello strategico, cioè noi dobbiamo ragionare in questo momento sul fatto che sia Bitcoin che molte criptovalute stanno chiudendo una fase di un ciclo che era già iniziato alla fine del 2022, in questa fase qui dicembre 2022, e la stanno chiudendo in questi giorni, quindi questa fase di ribasso è terminata, assolutamente non lo sappiamo, nella precedente fase aveva fatto meno 30-38%, in questa fase qui ragazzi, siamo appena a un meno 23%, una fase ribassista che possa perdurare anche fino a un 30%, nel caso delle cripto, scluso Bitcoin, ci può stare alla grande, e tenetela presente, però in questa finestra è possibile assistere a questa fase, quindi secondo me, dal mio punto di vista, questo momento ragazzi, non è il momento di decidere se fare short sui mercati, a meno che non siate trader short term, quindi che fate il trading vero, quello che apri oggi e chiudi domani, dopodomani, ma se non è questo il vostro obiettivo, questa non è una fase in cui si va contro il mercato, quindi tentando appunto lo short, bensì è una fase di attesa per l'accumulo di questi strumenti, per esempio, io molto spesso vi ho detto che non ero entrato nel settore delle cripto, in maniera importante, abbiamo un piccolo capitale che stiamo facendo con dei progetti, ma siamo in fase di accumulo, solo il 30% è stato accumulato, tra l'altro, prima della mini alt season, in quella fase lì, quindi è attualmente anche addirittura forse anche un po' in profitto ancora, ma non mi interessa quello, mi interessa l'altro 70% che è rimasto completamente fuori e che entrerà proprio in questo contesto qui ragazzi, quindi è questa la fase in cui io personalmente andrò nelle prossime settimane a gestire queste fasi di ribasso sul settore delle cripto per creare definiti il portafoglio finale per l'eventuale, tra virgolette, fast e post halving eccetera. Avverrà, non avverrà, è irrilevante, perché la mia è una strategia, se non avviene vado in stop loss e perdo, molto semplicemente, se avviene invece faccio un super gain, come è stato negli altri anni precedenti. Tutto qui ragazzi, una strategia, la strategia è creata non con bei dei dip a cavolo, scusate il termine, ma sono stati progettati in maniera strettamente connessa all'analisi ciclica, con money management iper evoluto, quindi tutte robe fatte con i crismi, lo stiamo seguendo in Academy, ci sono due progetti paralleli in Academy di questa questione qui e sarà continuato lì, in questo modo ragazzi. Poi però magari nei prossimi anni andremo a fare il punto anche di questa situazione e cercheremo di vedere che cosa sta succedendo. Allora questo era un grafico, secondo me molto importante da andare a vedere. Passiamo invece alla variabile di ETH ragazzi, un grafico interessante, quello di Ethereum, perché? Perché qui c'è stato il breakout del super livello di resistenza che erano i 2500 dollari su Ethereum, che però è diventato fake, perché subito dopo si è nuovamente reversato verso il basso, quindi creando non poco pasta in negativa, non poco problema anche per chi come me aveva tradato quella fase. Infatti è stato un trade in loss, non in grande loss, perché per fortuna siamo entrati prima del balzo, ve lo faccio vedere, siamo entrati qui in questa zona praticamente, questa giornata, ma prima del balzo, però poi avendo chiuso in pratica nella giornata del 22 le operazioni, siamo andati in un mini loss, in pratica abbiamo comprato qui, abbiamo chiuso qui, quindi vedete questo spazietto è un mini loss. Fastidiosissimo dal mio punto di vista, anche perché questo è un fake breakout, è il secondo tra l'altro trampolino che mi fa Ethereum in questa fase. Allora la questione ciclica di ETH è molto complessa, qui potrebbe essersi chiuso un ciclo trimestrale, oppure sta facendo una fase più lunga del trimestrale, perché ancora siamo nei tempi tecnici, siamo intorno ai 100 giorni, quindi è sufficiente ancora a livello tecnico. Perciò anche qui ha imbrogliato proprio le carte, è diventato complicatissimo, ha fatto un fake breakout per poi andare in chiusura probabilmente di una struttura ciclica, però ci porta una data precisa in questa zona, cioè la fine di gennaio, i primi giorni di febbraio. Questa finestra temporale, cioè questa settimana, fine di questa settimana, e i principi della prossima. In sostanza ragazzi, oggi è mercoledì, bisogna monitorare da domani fino al lunedì martedì prossimo. Questa zona è interessante, secondo me ancora una volta va attentato un altro long anche su ETH nel tentativo di fare, diciamo, di prendere un eventuale movimento. Solo se il trimestrale è stato chiuso qui e allora qui è iniziato un nuovo trimestrale, molto debole, poi va down, allora cambiano tutte le carte, perché a quel punto si inverte completamente la struttura e indicherebbe un trimestrale ribassista che significherebbe discesa, ahimè pertanto per un po' di mesetti e quindi si andrebbe a configurare in pratica come sulla questione delle altre cripto, questo tipo di atteggiamento qui. Una fase di ribasso con sali e scendi che potrebbe durare addirittura fino a marzo del 2024 e questa questione non verrebbe risparmiato neanche ETH da questo tipo di movimento. Perciò, secondo me, ho lavaluto spacca proprio da questa zona qui, perché questa zona è importante, se inizia un nuovo trimestrale deve spingere sicuramente fino a meno a 2.500 dollari e poi si vede, però deve dare la spinta in questa fase e dovrebbe farlo tra la fine di questa settimana e la prossima. Ovviamente non fate buy the dip, bisogna attendere i segnali di inversione, io non vi do consigli finanziari, vi sto spiegando gli scenari possibili, ma attendere segnali di inversione prima di entrare, posizionare lo stop loss, creare un trading plan, avere delle strategie, ma se siete magari in hold e volevate avere un'idea generale, vi sto dicendo più o meno quelle che sono le cose che potete andare a controllare se le questioni si mettono malissimo. E come vi dicevo si mettono malissimo se non regge questo livello qui dei 2.080 e soprattutto se non regge verso metà di febbraio, non tanto in questa fase qui che può fare appunto una chiusura in questo modo, ma se per caso qui c'è incischia e poi brecca dopo, allora lì ragazzi veramente diventa pericolosissimo, va bene? Perché andiamo poi in una close che è ben differente e andrebbe vista in maniera differente. Allora, andiamo a vedere anche Solana, anzi facciamo così, andiamo a vedere prima il grafico di ETH Bitcoin, anche qui grossolanamente è stato fatto un fake perché, anzi lo mostro su questo workspace che è già strutturato in termini di grafico. Allora, anche qui l'ennesima problematica perché ragazzi questa candela di inversione è stata estremamente significativa ma non ha passato e io ero convinto che questa volta ci sarebbe riuscito in questa zona, non ha passato. La trendline discendente non ha rotto le medie mobili, è rimasto lì e basta. Fintanto che questa trendline discendente è ancora intatta, il trend contro Bitcoin di Ethereum resta negativo ragazzi, resta negativo come è negativo dal settembre del 2022. Ora, c'era stato qui un grande balzo e secondo me è estremamente significativo, qui è sicuramente iniziata una nuova struttura ciclica che andrà presa in considerazione, non si capisce bene cosa, però sicuramente almeno un ciclo trimestrale, quindi almeno 70-80 giorni è iniziato lì. se per caso questa fase dovesse continuare a declinare e quindi rompere questo livello, a quel punto il ciclo annuale di ETH al 100% sarebbe già ribassista contro Bitcoin e quindi significherebbe che non c'è modo di ripartire fino ad almeno a più o meno aprile, secondo me come forza relativa nei confronti di Bitcoin. però attenzione perché questa cosa è ancora lontana, cioè il minimo è qua sotto, non è vicino, anzi se come vi dicevo nella prossima settimana, questo è un grafico settimanale, nella prossima settimana ETH dovesse ritornare a spingere potrebbe tranquillamente tentare questo break che è quello che in effetti io mi aspettavo ma non mi aspettavo una candela così ribassista perché io mi aspettavo che Cin ci schiasse su questo livello qui che facesse un po' di barra di congestione ma non un ribasso di questa levatura per poi provare la spinta quindi trovare in pratica la spinta in realtà è andato a fare proprio un down ora non è che sia un down vertiginoso perché fa ancora parte di neanche la metà della candela precedente rialzista ecco ve lo faccio vedere in quest'ottica che magari si vede meglio perciò se fa una cosa del genere e poi da qui torna a salire disegnerebbe questo tipo di inversione perciò occhi buttati su Ethereum fine settimana e inizi della prossima per vedere quello che combina se scende ancora su Bitcoin la prossima settimana la vedo difficile diventa un fake questo tipo di segnale andiamo a vedere Solana per capire anche come è messa Solana e la prendo subito vediamo dove sta ecco il grafico di Solana che nel dal mio punto di vista come vi avevo accennato sono in attesa della chiusura del ciclo annuale su Solana dopodiché valuterò l'ingresso anche su questa criptovaluta perché è stata veramente molto forte e quindi è importante a quel punto dopo con il prossimo ciclo annuale provare un'eventuale fase di ingresso dove potrebbe arrivare una chiusura classica dei cicli annuali come quelle su Solana andiamo a fare lo stesso calcolo che vi ho mostrato nel grafico di lunedì a proposito ragazzi avete visto la precisione del grafico del video di lunedì ve l'ho fatto nei tempi giusti perché sapevo che più o meno non sarebbe durato quel livello e spero vi abbia dato una grande manporta visto che tra l'altro il video è stato stravisto forse uno dei più visti degli ultimi due mesi quindi vi ringrazio ovviamente per questo ma se non l'avete ancora fatto è imperdibile il video di lunedì allora qui ragazzi abbiamo una questione meno 46% di ribasso almeno in questa fase diciamo tra l'altro non importante qui abbiamo un ribasso su Solana di meno 37% è possibilissimo assistere appunto ad un arrivo di Solana in questa fascia di prezzo che tra l'altro è un grafico che vi ho mostrato già nei precedenti video questa è una zona interessante su Solana però indicherebbe anche una cosa molto semplice cioè indicherebbe che questa fase di ribasso non è terminata e quindi a quel punto una fase di ribasso Solana che può durare fino a febbraio marzo significherebbe che i cicli sulle criptovalute sono in fase di chiusura proprio a livello annuale va bene allora detto questo ragazzi questa zona potrebbe essere già sufficiente per una chiusura del ciclo annuale 392 giorni un po' cortino io attenderei un po' se dovessi ragionare anche perché è stato iperrealzista quindi se dovessi ragionare da un punto di vista di strutture cicliche qui siamo a 126 giorni quindi probabilmente sta chiudendo un semestrale e dovrebbe farlo verso fine febbraio metà febbraio già su metà febbraio mi troverete più con le mani che mi prudono come si suol dire per cercare eventuali livelli di pricing di buy eccetera però ci vuole un po' di tempo una decina di giorni 15 giorni nel frattempo vi ribadisco che concettualmente anche se da qui doveste partire un ziluro non fa niente ci sono i sistemi su Ethereum e su Bitcoin entreranno quelli c'è il portafoglio già creato sulle altcoin entreranno lì la pazienza è la virtù dei forti e soprattutto la più grande dote dei trader soprattutto significa che bisogna ragionare a rischiare il meno possibile non a farsi prendere da panico FOMO e quant'altro per me questi giorni che verranno sono giorni di attesa di un minimo e l'attesa che per me è significativa perché mi darà la possibilità di rientrare sui mercati dalle posizioni che sono già uscite su Bitcoin a circa 43 42,7 e su ETH l'ultima uscita due giorni fa però male secondo me quella su Ethereum eccetera per fortuna diciamo eravamo entrati bassissimi però in linea di massima devo posizionare anche l'altro 70% del portafoglio delle crypto quindi c'è tanto spazio di manovra sono abbastanza liquido perciò mi interessa gestire questa parte per me i prossimi giorni 20 giorni circa sono giorni di attesa di un minimo per riposizionarmi in virtù della chiusura del ciclo annuale non sto cercando short sapete che non li faccio su Bitcoin ma non li sto facendo neanche sulle crypto perché non mi piace a dire la verità questa fase andare short neanche sulle crypto valute secondo me non è momento in questa fase qui preferisco riposare eccetera attenderò questi 20 giorni un riposizionamento e vi posso dare questo consiglio che non è ovviamente finanziario ma è ragionata in questo modo cioè cercate di ragionare al trovare una zona di acquisto a crearvi le vostre strategie a studiare in questa fase come agire sul mercato e vi darà grandi soddisfazioni anche il prossimo anno almeno si spera ovviamente lo studio vi dà sempre grandi soddisfazioni ma poi il mercato ci deve dare la sua nel 2023 ho avuto ragione quando vi ho detto queste cose ha funzionato alla grande e nel 2024 lo sapremo alla fine dell'anno ma io spero di non smentirmi ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti